Il candidato della coalizione di centrodestra è Raffaele Fitto. Quale valore aggiunto o maggior valore può avere rispetto agli altri competitors candidati presidente? Ne parliamo con il dottor Luigi Laterza che è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Io ho avuto il piacere di svolgere il ruolo di sindaco quando presidente della regione era Raffaele Fitto e poi ahimè ho potuto fare i confronti da amministratore con i successivi presidenti di regione. Quindi devo dire che non c'è assolutamente paragone in quanto a lungimiranza, in quanto a idee chiare su come affrontare le problematiche amministrative regionali. Vorrei fare un esempio, uno per tutti, il piano di riordino sanitario che ha fatto perdere le elezioni a Raffaele 15 anni fa, però poi lo stesso piano dopo tanti anni è stato ripreso e purtroppo neanche portato a termine e neanche svolto per come doveva essere svolto e la situazione attuale è sotto gli occhi di tutti. Parliamo praticamente di un personaggio politico con un'esperienza veramente notevole, forse come pochi in Italia per cui sono ben contento di competere come consigliere regionale avendo come candidato presidente Raffaele Fitto.